Nel nubifragio del Barbetti il Gubbio ospita il Forlì nell'ottavo turno del girone B di Lega Pro. 4-3-1-2 ha confermato per Maggi con la grande novità rappresentata da Narciso in porta al posto di Volpe. 4-4-2 invece per Gadda. Primo squillo al ventitresimo. Cross dalla sinistra di Ferretti per Candellone anticipato sottoporta dalla chiusura aerea di Conzon. Un minuto dopo la risposta bianco-rossa. Lancio lungo per Ponzà. Buon movimento in profondità e taglio in aria per Capellini chiuso in tecchial da Zanchi al momento del tiro. Al ventisettesimo. Spinosa scappa via Marini a sinistra e pesca in aria sempre Cappellini. Tiro a giro fuori dallo specchio. Al ventottesimo. Croce. Cross dalla trequarti destra. Balagussa liscia la sfera. Il rompe Zanchi che da posizione favorevole calce di potenza sul primo palo ma la sfera termina lato. Al trentaquattresimo. Gran palla verticale di Parigi per Ponzà che penetra in aria allungandosi leggermente il pallone favorendo la tempestiva uscita di Narciso. Al trentottesimo. Gran giocata di Candellone su Cammaroto. La palla finisce sui piedi di Ferretti che cerchi il fendente Mancino dai 25 metri ma Turrin blocca terra. Quarantacinquesimo minuto. Cross di Marini dalla destra. Torre di Casiraghi per Balagussa che al momento di calciare viene ostacolato da Capelluto. Per l'arbitro Marco Dascano di Ancona è calcio di rigore. Dal dischetto va Casiraghi che spiazza Turrin infilando il pallone nel set per il vantaggio rosso-blu e la prima rete stadionale del trequartista Scuola Parma. Nella ripresa subito un cambio per Maggi. Autromano dentro Giacomarro ma al cinquantatresimo. Sereni. Calcia. Una punizione liftata e a scendere che incoccia in pieno il palo alla sinistra di Narciso. Al cinquantanovesimo ripartenza Fulmine e Gubina. Casiraghi serve Ferretti che converge verso l'interno e scarica il sinistro deviato ma Turrin si fa trovare pronto. Nel finale arriva l'esordio tra professionisti per l'attaccante classe 1999 Tavernelli che sostituisce Casiraghi e al minuto 88 sul servizio di Ferretti avrebbe la chance per raddoppiare ma la sua conclusione dal limite dell'area è respinta da Turrin. Un minuto dopo sempre Ferretti serve in campo aperto Zanchi che galoppa fino all'area piccola servendo a due passi dalla porta Candellone che manca incredibilmente il raddoppio. E dal quinto ed ultimo minuto di recupero il Forlì sfiora il Beffardo pareggio. Crofti Bardelloni dalla destra, Marini spazza sui piedi del non entrato Ricci che appena dentro l'area contro le calci ma Burzigotti fa da muro. L'azione sfuma ed il Gubbio torna a vincere al Barbetti dopo oltre un mese. Seconda vittoria consecutiva per il Rosso Blu che raggiungono così il Pordenone in vetta. Sabato prossimo si replica al Barbetti ancora alle 18.30 al cospetto della maceratese di Federico Giunti. Partita a Marcord per Giuseppe Maggi e tanti ex oggi in maglia Gubbio. Grazie a tutti.